La mentalità ci porta comunque a rispettare tutti però non avere paura di nessuno e quindi cercare di giocare sempre con le nostre armi sapendo benissimo che magari possiamo incontrare anche altre squadre che possono essere più forti di noi. Quello del che giochiamo a un calcio non italiano è una considerazione che avete fatto sempre voi, quindi che comunque siete molto attenti a tutto. Avete sempre detto che la Juventus gioca a un calcio che si avvicina più alle squadre europee, quindi non è che lo sto dicendo io. A domanda ho risposto che abbiamo confermato questo. È inevitabile che dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo crescere nel nostro campionato perché si sta creando troppo divario rispetto al calcio nostro e al calcio che viene giocato negli altri paesi. Gli altri paesi stanno crescendo e noi invece stiamo raggiudendo. Ci sono delle potenze come il Barcellona, il Real Madrid, il City, il Paris Saint Germain, la squadra del Bayern Monaco, il Chelsea, squadre che investono tantissimo e noi in questo momento non abbiamo questa possibilità. Per fortuna ci sono le idee, c'è un'organizzazione, c'è una testa, ci sono delle teste, dei cuori e delle gambe, cosa che ieri è funzionato benissimo per i ragazzi e questo sono molto contento. Ripeto, stanno facendo qualcosa di straordinario da un anno a questa parte e spesso e volentieri questi ragazzi vengono un po' bistrattati troppo. Questo a me dispiace e dà fastidio, però ci deve spronare a fare ancora meglio.